Ragazzi è una giornata impegnativa, posso andare a lavorare? Grazie. Ciao carissimo. La parte di mio fratello con tutta la stima, tu lo sai. Stai elegantissimo, va bene. E vieni, riparebbe tutto se la diciamo a te. Riparò tutto. Con la mare Ioni come mai non ce l'ha fatta, ministro? Ragazzi mi fate mangiare mezz'ora e poi torniamo in Senato oggi pomeriggio. Dai, madonna mia. Signori. Grazie. Guarda ragazzi, non chiedo troppo, mezz'ora di tranquillità.